Nel giro di dieci minuti tutti abbiamo saputo dell'incidente mortale avvenuto alle 12.31 in Sevel perché nessun RLS dei sindacati si è precipitato a vedere come era accaduto? E questa è la domanda che pone Fabio Cocco dell'USB provinciale, operaio al reparto montaggio nella fabbrica del Ducato. Io non potevo andare, spiega Cocco in conferenza stampa, perché non ho rappresentanza RLS, ma gli altri sindacati avrebbero potuto, è un loro diritto. A Lanciano l'USB ha fatto il punto sull'incidente mortale avvenuto in Sevel il 3 gennaio scorso, quando perse la vita Cristian Terilli, 29 anni da compiere. Con Cocco ci sono anche Francesco Tuccino e Marco Benevento del gruppo nazionale USB Salute e Sicurezza. Giovedì 9 gennaio e venerdì 10 proclamate due ore di sciopero su ogni turno in Sevel e nelle fabbriche dell'Indotto. L'USB chiede un'audizione dal PM di Lanciano, titolare dell'inchiesta sulla morte di Terilli, schiacciato da un macchinario della Ute 1 durante le operazioni di manutenzione straordinaria e lastratura. Cocco e la segreteria nazionale del sindacato unitario di base chiedono anche a una commissione di inchiesta nazionale nelle fabbriche del gruppo FCA, che accerti la effettiva sicurezza messa in campo dall'azienda e dalle ditte subappaltatrici, come la sinergia di Piedimonte-San Germano nel Frusinate, per la quale lavorava Terilli. Infine, spiega Benevento, l'USB sta valutando l'ipotesi di costituirsi parte civile al futuro processo. Noi chiediamo di essere convocati dal PM di Lanciano per capire e dare anche degli elementi di considerazione per quello che riguarda domande sull'organizzazione del lavoro, sulla tempistica, domande sullo specifico, visto che abbantiamo una discreta esperienza dal punto di vista della tutela dei lavoratori in ambito di sicurezza e sulle linee di produzione. La seconda questione riguarda anche le condizioni di lavoro in FCA. A ottobre è morto un altro manutentore di FCA presso lo stabilimento di Cassino, Fabrizio Greco. E crediamo che questi non sono casi, sono questioni che vengono fuori dall'organizzazione del lavoro, dai tempi, dai ritmi. In Fiat c'è una mente esponenziale dei lavoratori con ridotte capacità lavorative, proprio da stress correlato legato ai ritmi. Chiediamo che ci sono troppe aziende di appalto, troppi lavoratori interinali. Crediamo che invece un'organizzazione del lavoro più consona, più rispettosa dei lavoratori, che quindi preveda lavoratori a pieno diritto, con piene tutele, possa garantire questi lavoratori. Non conosciamo di molti le condizioni di lavoro, non conosciamo se hanno diritto accesso alle ferie, ai turni di riposo, se vengono rispettate le normative sugli straordinari. Insomma, crediamo che Fiat debba essere messa un attimino sotto controllo.